Fa discutere in queste ore la scelta di comunicare alla propria popolazione uno stato di allarme. È successo a Castelnuovo Garfagnana quando il sindaco Gaddo Luccio Gaddi ha preferito comunicare ieri sera alle 21 di aver ricevuto una telefonata dalla Protezione Civile, poi successivamente confortata anche da un fax del Dipartimento Nazionale, firmata da Franco Gabrielli, nel quale si evidenziava un probabile stato di allarme. La tecnologia aiuta e il Comune ha lanciato con un tweet l'informazione a tutti i cittadini e da lì a breve tutto il passaparola ha portato la popolazione di Castelnuovo a trovare rimedio e riparo per la notte. Chi ha provveduto in maniera privata con auto e mezzi propri, chi invece si è portata nei posti pubblici di incontro e di aggregazione, insomma una specie, una sorta di allarme che ha reso la notte abbastanza agitata e preoccupata per gli abitanti. Questo è un fatto avvenuto ma la domanda è, è giusto avvisare, non è giusto avvisare, bisogna creare allarmismo? A mio parere credo che sia giusto che la popolazione sia informata, cioè credo che la notizia di un probabile disastro, di un eventuale problema non possa essere legata solo a poche persone ma debba essere di dominio pubblico anche perché la cosa pubblica riguarda tutti. Però resta il fattore dei perbenisti che intendono non sollevare, non preoccuparsi di quello che potrebbe accadere nell'ottica che poi non accade nulla. Questo è un pensiero parziale perché poi se fosse veramente accaduto cosa avrebbero detto? Che una volta tanto la macchina dell'amministrazione e della protezione civile avrebbe funzionato. Credo che se nelle zone colpite dal sisma a maggio scorso ci fosse stato un preallarme e fosse stato possibile avvisare la popolazione probabilmente i danni sarebbero stati minori, soprattutto le morti sarebbero stati minori. Ma sentiamo che cosa ha dichiarato il dottor Gianluca Valenzise, funzionario della sala sismica in GV, praticamente la persona da cui è partito l'allarme. Credo che la sua dichiarazione sia molto chiara, anche se però l'invito mio e penso che la maggior parte della gente la pensa un po' come me, sia quello di rimanere comunque informati perché uno stato di allerta deve esistere. Consideriamo che attualmente la terra continua a tremare in varie zone d'Italia, ultimamente anche nella zona della riviera Ligure, dopo che venerdì scorso c'era stato il problema anche di un 4.8 a scala Richter dalle parti di Castelnuovo Garfagnana. Ma ascoltiamo il dottor Valenzise e poi credo che ognuno debba fare le proprie sincere valutazioni. Sono Gianluca Valenzise, sono un sismologo e in questi giorni sono funzionario presso la sala sismica, è un lavoro che noi facciamo a rotazione settimanale. In questi giorni, venerdì il 25 gennaio c'è stata questa scossa di terremoti in Garfagnana con maitudo 4,8 e come sempre funziona, come sempre succede in questi casi, noi facciamo degli aggiornamenti, inviamo alla professione civile degli aggiornamenti quotidiani, in questo caso due volte al giorno, la mattina e la sera. In questi aggiornamenti sono contenuti sia le liste dei terremoti che ci sono stati con delle mappe che ne fanno vedere la localizzazione, sia eventualmente, se lo riteniamo, valutazioni sull'evoluzione di queste sequenze. Quindi dal punto di vista tecnico questo è quello che l'istituto è chiamato a fare dalla protezione civile. Ora, venendo al fatto di ieri, la sequenza, come si è detta, è iniziata il 25 gennaio, ha avuto, come sempre succede, un corteo di repliche abbastanza numerose, oltre 200, queste repliche avevano la caratteristica di essere tutte molto piccole, forse anche troppo piccole rispetto a quello che ci aspettavamo dal punto di vista così statistico, tutte a maitudo intorno a maitudo 2, 2, 5, ce ne sono state soltanto pochissime risentite la popolazione e quando la notte scorsa, la notte fra il 30 e il 31 alle 00.42 c'è stata la scossa M2O3-3, questa scossa ha allarmato molto la popolazione e in qualche modo ha un po' alterato l'andamento della sequenza perché era la prima scossa significativa dopo la scossa principale. Per certi versi era atteso che ci fossero entriremoti queste dimensioni appunto perché le scosse fino a quel momento erano state tutte molto piccole, ma l'altra cosa importante almeno dal nostro punto di vista era che questa scossa si spostava verso sud ovest rispetto alla scossa principale e quindi si avvicinava all'abitato di Castelnuovo in Garfagnana. Quindi noi sulla base di queste osservazioni nel comunicato formulato ieri mattina, ieri 31 alla professione civile abbiamo semplicemente rimarcato il fatto che la sequenza stava in qualche modo un po' modificandosi con questo spostamento agli epicentri verso sud ovest. Questa è l'informazione che è stata data alla professione civile e questa è l'informazione che per quanto ci risulta la professione civile ha poi rilanciato agli enti locali. Quello che è successo dopo è difficile capirlo, intanto mi sorprende il fatto che mentre questi comunicati avvenivano ieri mattina, ieri 31, fra le 8 e le 9, ci siamo stati poi 12 ore prima che si innescasse tutto quello che abbiamo visto e questo è già difficile da capire. Per il resto è chiaro che si è alimentato un ciclo di paure, di preoccupazioni per le proprie responsabilità e purtroppo il risultato è quello che abbiamo visto. Sono Gianluca Valenzise, sono un sismologo e in questi giorni sono funzionario presso la sala sismica, è un lavoro che noi facciamo a rotazione settimanale. In questi giorni, venerdì 25 gennaio, c'è stata questa scossa di terremoto in Garfagnana con magnitudo 4,8 e come sempre funziona, come sempre succede in questi casi, noi facciamo degli aggiornamenti, inviamo alla professione civile degli aggiornamenti quotidiani, in questo caso due volte al giorno, la mattina o la sera. In questi aggiornamenti sono contenuti sia le liste dei terremoti che ci sono stati con delle mappe che ne fanno vedere la localizzazione, sia eventualmente, se lo riteniamo, valutazioni non solo l'evoluzione di queste sequenze, quindi dal punto di vista tecnico questo è quello che l'istituto è chiamato a fare dalla protezione civile. Ora, venendo al fatto di ieri, la sequenza, come si è detto, è iniziata il 25 gennaio, ha avuto, come sempre succede, un corteo di repliche abbastanza numerose, oltre 200, queste repliche avevano la caratteristica di essere tutte molto piccole, forse anche troppo piccole rispetto a quello che ci aspettavamo dal punto di vista così statistico, tutte a magnitudo intorno a magnitudo 2, 2,5, ce ne sono state soltanto pochissime risentite dalla popolazione. Quando la notte scorsa, la notte fra il 30 e il 31 alle 00.42 c'è stata la scossa di magnitudo 3,3, questa scossa ha allarmato molto la popolazione e in qualche modo ha un po' alterato l'andamento della sequenza, perché era la prima scossa significativa dopo la scossa principale. Per certi versi era atteso che ci fosse un terremoto di queste dimensioni, appunto perché le scosse fino a quel momento erano state tutte molto piccole, ma l'altra cosa importante, almeno dal nostro punto di vista, era che questa scossa si spostava verso sud ovest rispetto alla scossa principale, quindi si avvicinava all'abitato di Castelnuovo in Garfagnana. Quindi noi sulla base di queste osservazioni, nel comunicato formulato ieri mattina, ieri 31 alla professione civile, abbiamo semplicemente rimarcato il fatto che la sequenza stava in qualche modo un po' modificandosi con questo spostamento agli epicentri verso sud ovest. Questa è l'informazione che è stata data alla professione civile e questa è l'informazione che per quanto ci risulta la professione civile ha poi rilanciato agli enti locali. Quello che è successo dopo è difficile capirlo, intanto mi sorprende il fatto che mentre questi comunicati avvenivano ieri mattina, ieri 31, fra le 8 e le 9, ci siamo stati poi 12 ore prima che si innescasse tutto quello che abbiamo visto e questo già è difficile da capire. Per il resto è chiaro che si è alimentato un ciclo di paure, di preoccupazioni per le proprie responsabilità e purtroppo il risultato è quello che abbiamo visto.